Ricorda, puoi vedere questo show anche on demand su Sky Go. Guardalo quanto vuoi e quando vuoi. Punti a lanciarvi nella giungla di Jurassic World Camp Cretaceous? Per nuove avventure mozzafiato. Ci sarà bisogno di tanto coraggio e di gambe molto veloci. Scoprirete cose mai viste prima. Non ci credo. Tra nuovi incontri e vecchie amicizie. È bello rivederti. L'isola non è per tutti. Guardatevi le spalle. Jurassic World Camp Cretaceous. I nuovi episodi dal lunedì al venerdì alle 20.55 su Cartoon Network. Nel mondo di Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Immagina la carriera dei tuoi sogni e crea storie sempre nuove. Con le bambole, gli accessori e la casa dei sogni di Barbie. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Ehi, ciao! Questo è un Pikmin rosso. Sei pronto a vivere una grande avventura insieme a lui? Ti aiuterà a risolvere enigmi insieme ad altri Pikmin e per la prima volta al cane Occin. Divertiti con Pikmin 4 solo su Nintendo Switch. Puoi anche scaricare ora la demo gratuita dal Nintendo eShop. Gravitrax, la pista di piglie del futuro. Fai sfrecciare le piglie a tutta velocità e con Gravitrax Pro raggiungi altezze vertiginose. E costruisci piste spettacolari. Gravitrax e Gravitrax Pro, un divertimento infinito. Sognate di diventare grandi artisti? Con CREART dipingi il tuo capolavoro seguendo numeri e colori. Lo incornici e il risultato è strepitoso. E ora scopri anche la meravigliosa serie Junior. Polaretti, un monto di magiche bontà da Dolphin. 3, 2, 1... Lo senti questo profumo? Per me è già profumo di vacanza. Quante cose possiamo fare qui? Potrei risposarmi qui con mio marito. E noi ci giochiamo tutto. E inizia il nostro sogno in affetto. Un sogno in affetto, nuovo episodio. Giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand. Scopri i pisti con Cinlon. La paura è solo una nebbia da attraversare. Cinlon! Velocità, trago! Mi vengono i brividi e io sono a sangue freddo. Jade Armor su Cartoon Network.